Musica Per quei giornali sono stata sindaco di un comune dell'Umbria di Todi e lì nasce essenzialmente la mia esperienza amministrativa che è un'esperienza legata al territorio, ai cittadini, alle imprese alla modalità di accompagnare lo sviluppo, la qualificazione delle città costruire i servizi e anche in questa mia esperienza del Parlamento europeo guardando e lavorando all'interno del gruppo con i colleghi parlamentari italiani e negli altri paesi ho messo sempre quell'attenzione pensando di portare un contributo utile e complessivo nel pluralismo anche delle esperienze professionali di ciascuno un contributo che è quello della rappresentanza anche dei territori, delle città, delle comunità locali dal punto di vista di come l'Europa può servire sul territorio e può accompagnare le politiche di sviluppo del territorio, un'Europa che è attenta al territorio, all'ambiente penso alle politiche agricole, a come ripensare la politica agricola comune a come farla diventare sempre più una politica che accompagna lo sviluppo locale ho pensato anche alle misure che possono servire alle imprese alle nostre imprese, alle piccole e medie imprese più colpite da questa crisi un'Europa che attenta a costruire anche politiche sociali abbiamo costruito anche con un atturaggio in certi momenti con molta decisione l'Europa della unica unica, l'Europa del mercato comune come diceva De Lod non sarà il mercato unico ad appassionare gli europei forse fa credere di più l'Europa se questa Europa serve concretamente ai cittadini ne accompagna alcune politiche che i cittadini sentono più vicine penso a tutto il tema dei diritti sociali, della protezione dei lavoratori dell'impresso delle donne nel mondo del lavoro delle politiche per i giovani, di mobilità ma anche di crescita questo nostro futuro di un'economia basata sulla conoscenza dove l'Europa pensa le politiche di programma, quindi l'Europa un po' meno diciamo così del mercato, un po' meno degli stati soltanto nazionali delle politiche nazionali, più l'Europa che scommette sui bisogni e sulle risposte che servono alle comunità locali questo è l'impegno messo in questo anno, è l'impegno che ci sarà per il futuro se sarò eretta, ma anche un impegno a rappresentare prima di tutto le persone l'Europa che mette al primo voto le persone, lo abbiamo scritto anche in alcuni contenuti del nostro programma, che si preoccupa e si prende cura delle persone rispetto ai fenomeni che più preoccupano il futuro delle comuni generazioni, disoccupazione, precarietà, incertezza dei mercati globali risposte sull'ambiente, sulla sostenibilità, ma anche un impegno che guarda qui siamo in riva all'asio, penso per esempio alla richiesta che è avvenuta da molte comunità che hanno intorno a zone come questa, per a Milaghi c'è la mia regione, c'è qui, ci sono anche in altre regioni italiane di pensare anche a politiche, a programmi e azioni anche innovative che servono a sviluppare aree come questa, c'è un grande progetto similari, minori dell'Europa, c'è come pensare a politiche e assumenti che servono completamente, l'Europa che viene distrutta come utile questo è l'impegno e la concretenza anche della nostra azione politica noi sappiamo che non sarà indifferente se nel Parlamento europeo ci sarà una forte maggioranza di parlamentare l'espressione dei partiti nella sinistra socialista, socialdemocratica